ciao ragazzi bentornati a questa nuova puntata fantastica di mtgo modern edition con boom 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 akira proprio lui si vuole di rimarchi che per voi oggi giocherà il mazzo del momento il mazzo che probabilmente quando vedrete questi video tra l'altro è di sabato domenica lunedì quindi il quarto video di questa serie sarà già uscito il ban probabilmente ne parleremo e chissà che non venga bannata qualche carta proprio di titan field il nuovo boogeyman del modder boogeyman significa uomo nero ne voglio vedere insieme andiamo a capire che cosa fa questo mazzo perché è così potente perché così consistente allora un mazzo che gioca 31 terre già questa cosa a me mi fa impazzire 31 terre in un mazzo di mo cioè nel senso proprio mi parte il cervello però è così gioca 31 terre che cosa c'è in queste terre lo andiamo a vedere dopo perché prima andiamo a vedere il cordo del mazzo summoner pact serve per cercare premival titan ovviamente e dryad of day di sun grove sempre ovviamente poi quindi abbiamo da una parte i rampanti che sono guarda li dividiamo che arboreal grazer mettiamo qui il patto saura dry builder search for tomorrow ok e explore quindi la metà c'è 13 carte sono rampanti poi ci sono i pay off che sono diciamo questi ci sono delle carte che rendono consistente il mazzo chiaramente si tratta di summoner pact e once upon a time come funziona il mazzo funziona così una volta avete fatto premival titan probabilmente quando avete cinque lande grazie a questa carta che sta cominciando a diventare anche un po rompiscatole cinque lande diverse più le due terre di premival titan fanno sette basta un field of the dead e una delle varie lande che magari servono appunto per vincere la partita se state sottodivite vi andate a prendere una bella come si chiama radian fontan se vi serve una carta non urtano in petland e così via dicevo fanno due zombie quindi quando fate premival titan fate anche grail titan fate un 66 che ha messo due terre più due zombie di più se per caso avete dread of the illis and grove in gioco allora quelle lande sono anche di tutti i tipi base come potete vedere questo mazzo gioca doppio vala con demoltempile con e zero montagne perché una volta che è dread of the illis and grove la sesta montagna qualunque questa sia significa boom boom e valakut spara non a vedere nella fattispecie che terra gioca questo mazzo monocopia di blast zone che alla fine il suo lo fa monocopia di boi giugabog che alla fine il suo lo fa castle garbring doppia caverna carina importante che sennò da counter moriamo tutte le partite field of the dead doppia copia valakut doppia copia le abbiamo spiegate tre foreste base e due snow covered forest e tre snow covered forest quindi questo mazzo è a prova di blood moon volevo dire a prova di bomba ma insomma un ghost quarter una nurturing petland una radiant fountain una swamp una snow covered swamp quattro verde catacombe e doppia golgari rot farm cosa serve questa golgari rot farm visto che non abbiamo amuleto anche se una bounce land sapete come funziona no si tratta di una carta che entra riprende in mano una terra che avete sul campo di battaglia e poi entra tappata darà due mana uno verde uno nero serve perché se avete che dire dove delisian grove in gioco e prendete con titano una golgari rot farm potete prendere in mano una carta una terra che magari potete anche rigiocare quindi per fare altri trigger su field of the dead o valakut andiamo a vedere la side allora questo mazzo è fortissimo contro contro fortissimo contro midrange praticamente non perde mai ha chiaramente delle debolezze contro combo quindi giochiamo quattro cranial perché li giochiamo diversi due memory side due cranial perché in caso dovessero farci carte che dicono nomina una carta non la puoi giocare eccetera abbiamo l'altra comunque questa carta e questa carta fanno la stessa cosa ok non land purtroppo quindi se un mirror dobbiamo andare a giocarci un valakut and field of the dead ma non possiamo o titano ma non possiamo nominare una carta terra le carte terre vengono nominate da altre carte poi noi di chi abbiamo paura di ashok perfetto giocheremo due group decay perché c'è gente pure che lo countera e due trofi che sono un po più generali per giocare contro ashok poi giochiamo una varasca col gary queen che ammazza ashok perché fa decay praticamente e vabbè non incontrabile ma incontrabile per quanto abilità poi dovessi avere qualche problemino contro dei midrange per mettere o anche contro contro il tireless trigger mentre questo lozzo è forte doppio vale of summer perché comunque è un aiuto importante scartino ci fa più paura di counter l'abbiamo detto e questo counter a scartino a turn 1 e doppio fatal push per cui match up veramente veramente orribili in cui non serve fare dei blocchi tipo infect che vi ucciderà sempre 2 a 0 non vincerete mai contro infect mai 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 non giocherci questa prima partita ci iscriviamo al torneo eccolo qua e andiamo a cercare il nostro primo oppo ragazzi il mazzo è forte 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 fa cose sbagliate lo vedrete in azione è anche discredente facile da giocare secondo me lunedì qualche cosa arriva il problema è che cosa bannare di questo mazzo perché che banni cioè once upon a time il mazzo rimane è vivo non è che farà schifo che banni invece titano wow bannare titano mi sembra veramente veramente eccessivo comunque sto pensando che questa mano c'ha due terre che a noi piacciono perché fanno cose contro dei mazzi del meta se dovessimo essere contro treggi se dovessimo essere contro un barn però solo due carte non è bellissima la tengo la tengo perché comunque c'ho una pescata in cui faccio mi fanno scartino muoio ok vado a fare once upon a time perché perché niente chiaramente pescherò prendono una terra no a questo punto prendo arboreal grazer invece che cosa sto dicendo perché così quanto meno una delle due per la scarta mi scarterà triad of the lisan grove ovviamente beh fossi lui scarterai quella quanto meno e noi quanto meno la partita possiamo continuare ops ho pescato una carta importante comunque stiamo giocando contro giunti io veramente vi sfido a perdere questo ma c'è vi sfido vi mettete lì e dici con quale modo io posso per a non aggiunte rosso nero mid range quindi però scusate sto leggendo waste not vabbè e qui potremmo fare triad of the lisan grove adesso gioca bug servirà c'è giusto perché lui ci farà fare tanti scartini se facciamo summoner pat triad of the lisan grove adesso poi lo paghiamo quantomeno abbiamo una partita da giocare io credo che questa sia la giocata più giusta perché lui ci vuole far scartare di tutto ve lo dico prima quindi triad of the lisan grove foresta triade ho due foreste per pagare questo quindi andiamo a tre foreste perché c'è un non lo so paura di uno smallpox tanto smallpox mi ammassa lo stesso quindi se fa smallpox ho perso ah è proprio tra l'altro mi avete chiesto di giocare questo mazzo praticamente no è un mono nero come si chiama e track non avevo mai visto waste not qui se faceva effettivamente smallpox avevamo perso possiamo pagare il patto io onestamente non mi sento il favoritissimo in questa partita però avere triad a terra cambia un po la partita perché poi so un botto di danni ogni terra che faccio poi che cosa ho detto poi cioè ho pescato valakut perché sono veramente un uomo fortunato c'è poco da fare io adesso gliene faccio sei gratis così ecco fatto questi li mettiamo tutti in pila con lo yes e questo vai bene sta a 11 è morto al prossimo turno 628 se pesco terra è morto al prossimo turno che ci regala liliana mi dispiace c'è arborial grazer a scarterò bojuga bog scarterò bojuga bog creatur card e lui farà uno zombie uno zombie 2 2 farà va bene va bene quanto valore da waste not che una carta che entra non fa niente no ah prende mana ah ok mana che non gli serve niente bene bene forte 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 cioè quindi io adesso faccio pesco terra se pesco fetch tipo va bene intanto perdo tre vite e li perdo ecco pesco terra dico faccio tre danni qui perché già mi ha rotto le scatoline tre danni qui e attacco l'eleana e ho blast zone in gioco tra l'altro quindi io posso anche liberarmi di questo cioè vi rendete conto vi rendete conto che mazzo hanno tirato fuori cioè l'idea of the reason grove ha fatto tra l'altro con l'amuleto è meno consistente ma più veloce cioè c'ha dei momenti proprio in cui tu non lo tieni mai allora questa fa fantastico a parte che lui è mono black ok veloz summer è importante direi quindi veloz summer lo giochiamo giocherà a shock si non ci mettiamo troppe renuola che non è che mi tra l'altro abbiamo anche blast zone ora cosa possiamo levare qui ah io levo doppio one samurai diamond explore anche se explore mi fa pescare carta sakura è brutto che chi devo bloccare non leverò sakura ne leverò addirittura tre ah potrebbe essere buono tracker che ci fa pescare carte perché lui vuole attaccarci la mano farci avere meno carte possibile ci potevo pensare che bello questo veloz summer on the draw un po' un po' così chiaramente tengo questa mano perché mi sembra nuts ok lui tra l'altro smallpox dice a tutte e due quindi per ora non è obbligatorio che lui mi scarti veloz summer dovesse non scartarlo ovviamente io faccio mana open e infatti lo scarta in verità va bene cerchiamo sta scimmia non la troveremmo mai anche perché abbiamo pure levato i sakura e allora aspettiamo dai facciamo alakut e go ora fa smallpox e morte morte estrema noi prendiamo una terra una landa fa crocsa crocsa ok non dico super ok ma crocsa ok ora secondo me quella colgari rotfarm è fortissima questa cavern of soul invece fa schifo perdo tre vite buono di che molto buono di che va bene faccio colgari rotfarm hanno commesso un grosso errore perché se adesso smallpox mi leva una landa che fa due mana eh 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 questo non mi va bene French mind scarto due carte a meno che non scarto un artefatto Driede mi piace io scarto di che rega mi sembra la giocata giusta c'è per ora non c'è niente e ora chiaramente la scelta Ravenscrime wow allora io adesso dovrò fare once upon a die mi tengo castle gare no non mi posso tenere castle gare eh premival titan non ci piace qui devo trovare la landa tappata wow l'andata tappata non ci voleva cioè li lavorava in scrim e va bene questo è anche importante però l'andata tappata non ci voleva poi l'andata tappata poi l'andata tappata triatotili langrove altra landa mamma mia albiz un altro croc wow premival titan ci saluta ci saluta ci saluta lui e vabbè cose che happens ok io non posso fare nulla no quindi faccio valagut e quella io lo scarterò ho c'è essermi ripreso in mano una terra con golgari rotfarm secondo me era una buona giocata si è rivelata un po' invece una non buonissima giocata perché adesso ho meno terre per valagut triatotili sangrove muore quello ci interessa anche poco questo vola vai snow covered forest qui sono cinque imana se io pesco terra lui non ha scartante faccio titano bene the rack non ha scartante pesco terra faccio titano due danni a noi pesco terra sbagliata faccio un cazzo di titano faccio e va bene però questo è figo perché vedete ci fa un danno di meno vedete perché ho detto colgari rotfarm è figa eh adesso faccio titano al prossimo turno se lui ha uno scartante non ha niente bene avrà delle rimozioni quindi cast cast titano primitivo uno due tre quattro cinque sei purtroppo non mi posso riprendere in mano niente ho tra l'altro tre lande diverse quindi sicuramente prendo blastzone sicuramente prendo field e via quel croxa ho una terra in mano field mi sembra cioè scusate blastzone mi sembra molto forte se non ha rimozione è ovviamente morto ma c'è là perché non può avere zero carte non c'è niente ah un altro croxa cioè nel senso croxa praticamente per lui è scarta due ma eh vabbè appunto cioè nel testo se non c'è rimozione sei morto che pescavamo one sapone time tra l'altro va bene si comincia con un 2 a 0 semplice semplice vediamo come si continua no? ci vediamo domani grazie per aver guardato